Salve a tutti e benvenuti nel canale di pensioni e aggiornamenti. Come comunicato nel video di ieri è arrivato il cedolino delle pensioni di gennaio 2022 con gli importi incrementati in base alla perequazione prevista per il 2022. Secondo quanto comunica il sito pensioni oggi l'IMS ha ricalcolato gli assegni in modo errato. Vediamo dunque tutti i dettagli in questo video. Prima di visionare il video come sempre vi invito ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace in questo video per supportare il canale. Naturalmente è tutto gratuito. Purtroppo come dicevamo poco fa l'IMS ha sbagliato i calcoli sulla rivalutazione. Infatti non corrisponde all'1,7% secondo i calcoli dell'istituto ma all'1,6%. Questo fa capire perché molti utenti nei commenti dei nostri ultimi video scrivevano che non si trovavano con i conti. La colpa dunque da imputare all'IMS che avrebbe effettuato calcoli errati. Dunque un errore dello 0,1% che non comporta grossi cambiamenti sostanziosi ma rimane comunque un errore. La notizia come dicevamo a inizio video è stata riportata dal sito pensionioggi.it. In parole povere l'IMS per bruciare i tempi ed erogare le pensioni aggiornate con i nuovi importi a gennaio 2022 avrebbe applicato una rivalutazione dell'1,6% che corrisponde alla perequazione registrata ad ottobre e non a quella dell'1,7% che è arrivata successivamente ed è stata ufficializzata dal nostro ministero dell'economia. Morale l'IMS dovrà rifare i calcoli e a marzo erogherà anche gli importi arretrati di gennaio e febbraio. Voi cosa ne pensate fatecelo sapere nei commenti di questo video e anche per oggi è tutto se non l'avete già fatto vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Grazie per l'attenzione al prossimo video e un saluto a tutti. Grazie per la visione!